Per tutti i popoli della Terra ti preghiamo, Signore. Tu che hai vinto la morte, donaci la tua vita, donaci la tua pace. È l'invocazione del Papa al termine dell'Urbia Torbi di Pasqua. Papa Francesco ha pregato per le zone di conflitto nel mondo. La Siria, l'Iraq, la Palestina, ha citato diversi paesi africani, tra cui Nigeria e Sud Sudan, ha parlato anche del Venezuela. Aiutaci, ha detto, aiutaci a cercarti affinché tutti possiamo incontrarti. Sapere che abbiamo un padre e non ci sentiamo orfani. Che possiamo amarti, Signore, e adorarti. Aiutaci a sconfiggere la piega della fame, aggravata dai conflitti e dagli immensi sprechi di cui spesso siamo complici. Rendici capaci di proteggere gli indifesi, soprattutto i bambini, la donna e gli anziani, a volte fatti oggetto di sfruttamento e di abbandono. Il messaggio che i cristiani portano al mondo è questo, ha insistito il Papa. Gesù, l'amore incarnato, è morto sulla croce per i nostri peccati, ma Dio Padre lo ha risuscitato e lo ha fatto, Signore, della vita e della morte. In Gesù l'amore ha vinto sull'odio, la misericordia sul peccato, il bene sul male, la verità sulla menzogna, la vita sulla morte. Del deserto.